Siamo con il nuovo acquisto dell'ST Sant'Angelo, Cristiano Bigolin, che dopo una prima parte di stagione al Seregno è arrivato adesso tra i rossoneri. Sei un difensore centrale, classe 1990. Com'è arrivare in una squadra in cui nel tuo ruolo sono stati fatti vari cambiamenti? Sono andati via due giocatori, ne sono arrivati due nuovi? Questo è un periodo di mercato e quando magari una squadra ha bisogno di cambiare è normale che lo vada a fare drasticamente in questa occasione. Però non è un problema, nel senso si inizia a lavorare e poi ho trovato un gruppo disponibile, un gruppo bello e quindi si può lavorare bene. Hai già esperienza in Serie D, hai vinto due volte il campionato con l'Arzignano, di cui una da capitano nell'ultima stagione che hai fatto là. Cosa può portare Cristiano Bigolin con la sua esperienza al Sant'Angelo? Ho avuto la fortuna di vincere un po' di campionati di qualche playoff, però il passato è passato. Io comunque porto qui me stesso, quello che sono sempre stato e quindi spero di poter dare una mano a questa squadra a tirarsi fuori da quella situazione in cui ci troviamo. Perfetto, per il momento ti ringraziamo e ci vediamo in campo. Buona fortuna. Grazie.